educazione all'affettività sia la proposta di legge il documento approvato a maggioranza sarà presentato all'attenzione del parlamento rimandata la chiusura del termo valorizzatore di livorno l'annuncio dell'assessore monni in risposta ad una interrogazione del portavoce dell'opposizione sostegno unanime alla valdichiana il consiglio appoggia la candidatura capitale italiana della cultura 2026 buonasera e ben ritrovati a monitor consiglio il consiglio regionale della toscana ha approvato la proposta di legge diretta al parlamento sull'introduzione dell'educazione all'emotività affettività e sessualità nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole il consiglio ha approvato a maggioranza l'atto presentato su iniziativa della commissione cultura presieduta da cristina giacchi voto favorevole di pd italia viva e movimento 5 stelle contrari invece lega fratelli d'italia e forza italia c'è stato dibattito in aula sentiamo le interviste parlamento ci sono almeno tre o quattro disegni di legge sull'introduzione dell'educazione all'affettività e la sessualità nelle scuole sono tutti arenati e la discussione si è fermata il governo ha disposto anche in seguito agli eventi tragici che sono avvenuti nel nostro paese di violenza sulle donne e non solo di abusi di vario tipo ha deciso di investire molte risorse in un progetto occasionale fra l'altro abbiamo appreso un progetto che è affidato alle scuole che consente un'adesione volontaria ai ragazzi noi crediamo che non sia un messaggio educativo se un tema è davvero priorità deve stare là dove stanno le cose fondamentali per la vita dei cittadini nelle leggi dello stato per questo dal consiglio della toscana è partita è stata approvata ieri una proposta di legge al parlamento che è un segnale di attenzione e che propone una modifica molto semplice e pragmatica della legge 92 che istituisce l'ora di educazione civica che nel disegno originario di molti che hanno fatto proposte di legge si chiamava educazione alla cittadinanza ecco di inserire tra gli argomenti di quell'ora di lezione anche questi temi i temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità è chiaro che non è abbastanza perché quello che sarebbe necessario è che ci fosse un vero percorso formativo con esperti psicologi persone in grado di guidare i ragazzi in percorsi di approccio a questi temi ma intanto se si cominciasse a lasciarli parlare di questi argomenti potremmo consentire a tante magari idee distorte di affiorare non mi ha sorpreso ma mi ha un po' preoccupato il tono specioso ed eccessivamente sulla difensiva delle opposizioni che hanno chiaramente ostacolato la legge non l'hanno votato contro appellandosi a ragioni che fanno pensare a un tabù sociale ecco tutto quello che sta nel tabù che sta nel non detto non è che i ragazzi non lo frequentano lo frequentano da soli si informano da soli su internet dove trovano notizie io credo che sia meglio consentire loro di raffrontarsi con adulti educanti presenti che possano magari leggere i segnali di un convincimento sbagliato di una mente fragile che si sta facendo delle idee pericolose se anche noi alla fine di un lungo percorso che la legge dovrebbe fare in parlamento e quindi affidata poi alle maggioranze parlamentari arrivassimo a evitare che anche in un caso si trascurasse l'esistenza di un problema in un ragazzo di un'idea di un'idea appunto distorta o pericolosa che consentisse l'intervento chiaramente ai servizi sociali a chi a chi di dovere ecco io credo che avremmo fatto il nostro dovere per questo sono contenta che comunque il consiglio regionale abbia approvato la legge che si sia avviata verso il senato per essere incardinata nella discussione delle commissioni competenti. Io per primo ho portato nel consiglio regionale della Toscana una mozione due anni fa che andava in questa direzione è evidente che la crescita di una persona avviene sotto il punto di vista anche umano relazionale e soprattutto affettivo e come tale è bene che la scuola sia il luogo dove si affronta e dove ci si confronta rispetto alla crescita emozionale e affettiva anche sessuale e soprattutto dove i ragazzi e le ragazze possano confrontarsi con personale competente nella conoscenza. Dalla conoscenza nasce l'approfondimento di temi molto importanti e come tale credo che tutta la dimensione delle relazioni, dell'affettività, del piacere e tutta la dimensione umana della persona abbia un valore altissimo al pari di quello nozionistico o quello culturale. La mia valutazione è che ieri sembrava di essere nel medioevo, ieri è andato in onda nel consiglio regionale un momento di oscurantismo che risale forse al secolo scorso ma ai primi del secolo scorso se non più indietro perché è stato evidente che da parte del centro-destra c'è una concezione dell'affettività delle relazioni veramente non saprei nemmeno come definirla assolutamente non moderna e non ho capito assolutamente le loro motivazioni di contrarietà. Io ricordo che ieri sera abbiamo avuto la notizia di un ulteriore femminicidio, sono state uccise altre due donne e c'è una cadenza giornaliera di questo fenomeno veramente impressionante. Siamo di fronte a un'emergenza nazionale e tutti dovremmo essere trasversalmente uniti nel cercare di trovare i mezzi per contrastarla. Sono d'accordo che il centro-destra ha fatto questo importante stanziamento di 15 milioni di euro, va benissimo, non sono certo contraria, mi fa piacere, ma non capisco la loro contrarietà a insegnare l'educazione sessuale e l'affettività nelle scuole. Io da genitore preferirei fosse la scuola a farsi carico dell'informazione dei ragazzi piuttosto che internet dove non si sa chi dia le notizie e per quale scopo. Stiamo dal presupposto che la scuola dovrebbe educare, dovrebbe educare a tutto tondo, quindi dovrebbe anche sensibilizzare i ragazzi rispetto a temi importanti, quale la diversità e la lotta alla violenza. Questa legge entra a gamba tesa invece dal nostro punto di vista su una sfera che è una sfera che ricade per lo più in quelle che sono anche l'ambito familiare. Io rivendico come genitore la mia libertà di educare mio figlio nel modo che ritengo opportuno, sensibilizzarlo al rispetto di quelli che sono principi e diritti fondamentali della persona. Rifiuto che questo possa farlo la scuola, anche perché se l'educazione sessuale è quella che ad esempio è stata propinata all'interno di un incontro dal comune di Pontassieve dove, come dire, si invitano gli adolescenti addirittura ad essere sensibilizzati sugli scambi di coppia, voi capite che siamo vicini a una strumentalizzazione su un tema che al contrario non dovrebbe vedere strumentalizzazioni. Oggi siamo di fronte a modelli culturali che ritengo profondamente sbagliati sotto certi punti di vista e addirittura parlare di una società fluida dove i ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni possano, come dire, alzarsi la mattina, sentirsi uomo o donna e questo è ritenuto normale. Io non credo che sia normale. Noi dobbiamo recuperare un patrimonio di valori e dobbiamo farlo perché altrimenti questa società rischia delle profonde derive. Noi abbiamo votato contro per diversi aspetti. Intanto perché è una proposta che va a modificare una legge del 2019 che ha introdotto l'educazione civica in tutte le nostre scuole. Poi si pensava che sarebbe stato opportuno fare un tavolo anche regionale con le istituzioni scolastiche, l'USR, la regione, le associazioni che si occupano di queste problematiche e gli esperti, ovviamente, perché occorrono gli esperti, vista la materia così delicata che tratta questa proposta di legge. Da questo tavolo potevano uscire delle proposte da portare in alcune scuole e vedere poi che cosa succedeva e poi farne una proposta di legge. Poi noi della Lega siamo d'accordo con quanto ha fatto il ministro dell'istruzione che ha proposto l'educazione al rispetto dell'altro, perché il rispetto dell'altro è alla base di tutto. Se noi seguiamo le regole e rispettiamo tutti, nelle loro diversità, sia culturali, fisiche, religiose, di tutti i tipi, le cose possono andare meglio. Ora, in questo momento, presi da quanto è successo ultimamente a Palermo e in varie altre parti d'Italia, c'è stata questa spinta a parlarne un po' di più per il discorso della violenza contro le donne. Però non dobbiamo aver fretta, proprio perché, come vi ho detto, la materia è molto delicata e farla insegnare agli insegnanti di educazione civica, che spesso sono dei tecnici, non ci sembra opportuno. Cambiamo argomento e parliamo di rifiuti. La chiusura del termovalorizzatore di Livorno è rimandata alla pianificazione d'ambito. Questa è la risposta dell'assessora regionale all'ambiente, Monia Monni, all'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. L'impianto, peraltro, ha già sospeso la propria attività a dicembre a causa di un guasto. Le interviste. L'ipocrisia del PD, della giunta regionale, dell'assessore Monni, a sostegno della grandissima ipocrisia del sindaco di Livorno, Salvetti, che da anni dice che l'impianto del termovalorizzatore di Livorno sarà chiuso a breve, l'ha detto nel 2019, a un anno dalla campagna elettorale del voto a Livorno. Lo sta dicendo ora a pochi mesi dal voto. In realtà l'impianto non è chiuso nel 2020, come ha detto il sindaco Salvetti. Non è chiuso nel 2023, come ha detto il sindaco Salvetti. Non ha chiuso nel 2025, come dice il sindaco Salvetti. E non chiuderà nel 2027, come dice il sindaco Salvetti. Questo spalleggiato nella risposta che l'assessore Monni ha dato oggi alla mia ennesima interrogazione sul tema dei termovalorizzatori in Toscana, che sono quattro. A Livorno succederà quello che è successo a Montale, dove verrà fatto revamping e un investimento di circa 15 milioni di euro e quell'impianto andrà avanti per 10 anni più 6 almeno per 16 anni, perché devono essere ammortizzati i costi dell'impianto. Quindi è fuffa dire che verrà fatto l'ossicombustore di Peccioli, che è un impianto che non esiste al mondo e che certamente non può entrare in funzione in tre anni, lo capisce anche un bambino. Non esiste al mondo dire che l'impianto di Livorno sarà chiuso. È chiuso ora, in questo momento, e sarà chiuso per un anno, perché verrà fatto un riammodernamento di questo impianto per poi stare in funzione almeno 10-16 anni. Quindi è l'ora che il Sindaco Salvetti, che l'assessore Monni dicano la verità ai cittadini di Livorno. In Consiglio regionale avevamo votato anche all'unanimità una mozione nella quale tutti, anche i consiglieri del PD di maggioranza, avevano votato a favore dei termovalorizzatori nel momento in cui la regione ha fatto la manifestazione di interesse per gli impianti di smaltimento dei rifiuti nella nostra regione, dove noi continuiamo a sportare fuori regione, continuiamo a aumentare i costi sulla tariffa dei cittadini e che cosa si fa? Si continua a dire chiudiamo i termovalorizzatori perché questi tipi di impianti non hanno potuto neanche avere accessibilità alla manifestazione di interessi fatta dall'assessore. Si tratta di politiche strumentali, elettorali, il percorso è un percorso assolutamente corretto, lineare, che tiene di conto delle istanze e delle necessità della tutela ambientale, della tutela dei lavoratori, della questione della tariffa e si inserisce in un quadro più ampio e articolato che quello anche dell'interesse generale e quindi dal nostro punto di vista non c'è nessuna ipocrisia ma c'è invece una grande correttezza e concretezza. Voltiamo ancora pagina. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della candidatura dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 2026. Le interviste a partire dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ho chiesto a tutte le colleghe e colleghi consiglieri regionali di votare una mozione che impegna la Giunta ma anche noi Consiglio regionale a sostenere tutte le iniziative perché la Valdichiana Senese possa ambire ad essere la capitale della cultura italiana. è un impegno collettivo. Convocherò nei prossimi giorni anche i parlamentari di tutte le forze politiche per poter trovare il modo di sostenere questa candidatura. Il 5 di marzo sarà un giorno importante, il giorno in cui verranno valutati i progetti che la Valdichiana Senese presenterà insieme alle altre nuove candidate e noi saremo lì insieme a loro per dirgli che tutta la Toscana è al loro fianco e che davvero c'è la possibilità di diventare capitale della cultura italiana 2026. Un impegno che personalmente ho portato avanti, una proposta che a me fa piacere essere staccolta da tutti i gruppi politici, quella di trovare un consenso bipartisan, unanime, dell'istituzione, consiglio regionale a favore e sostegno della candidatura della Valdichiana a capitale della cultura 2026. Bisogna mettere da parte le bandiere dei partiti, bisogna portare fuori la Toscana e sapere che questa è la nostra unica opportunità di giocarsi questa partita a livello nazionale. Una capitale della cultura dà non soltanto investimenti, dà valore in questo caso a quella Toscana diffusa, di quella terra nella quale anche io abito, che vivo, che conosco, dove le opportunità magari sono meno delle grandi città ma le risorse sono straordinarie. Come tali mettere insieme opportunità e risorse consente ai nostri comuni di presentarsi sul panorama nazionale e internazionale con una proposta culturale di altissimo livello e mi auguro che questo sostegno della Toscana possa portare poi la Valdichiana senese a essere incoronata a capitale della cultura. Io sono convinta, come penso anche voi, che la Toscana sia, non dico la più bella del mondo, ma tra le regioni più belle del mondo, quindi la Valdichiana la rappresenta sicuramente, quindi facciamo il tifo affinché nel 2026 sia la capitale italiana della cultura. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.